Oltre il lockdown c'è la Zucchetti Centro Sistemi che viaggia nel futuro nella centrale operativa di Terra Nuova Bracciolini c'è grande determinazione per cogliere le opportunità che il know-how propone. Del resto l'azienda che vede il vertice Fabrizio Bernini capo delegazione della Confindustria Ritina è all'avanguardia su tutto e lo ha confermato anche in piena emergenza coronavirus. Ci hanno cercato per fare un software per quanto riguarda gli ospedali per quanto riguarda qualcuno dei più grossi problemi c'è stato con il virus in Lombardia secondo il mio punto di vista ma non è il mio punto di vista punto di vista dei primari anche ovviamente di Milano e di Lodi è quello di non avere una domiciliare ben organizzata. Per domiciliare intendo che io lasciando la persona a casa possa avere un monitoraggio mi permette di vedere tutti i giorni il rischio che può correre la persona per poi eventualmente prendere in anticipo ovviamente la malattia e questo va direttamente in ospedale e su questo si sta cercando di creare un progetto interessante perché chiaramente la domiciliare arriva direttamente a chi sa leggere questi dati e sa cosa fare perché il problema è se è stato molto in ritardo dentro gli ospedali per arrivare all'ospedale quando la persona era già grave molto ce la può da fare.